Con noi della Gazzetta Eonica, Don Francesco Broccio, oggi si è insediato nelle comunità di Rina, Contura e San Francesco, giorno 15 sarà in quella di Sacra Famiglia. I nuovi parrocchiani hanno riservato una grande accoglienza, si aspettava tutto questo affetto? Ringrazio veramente i fedeli di queste comunità parrocchiali per il loro affetto, la loro benevolenza e ringrazio anche e soprattutto il mio amico fraterno, padre Gerry, mio predecessore, che ha voluto veramente preparare tutto questo insieme alle comunità che gioiscono per la continuità che il Signore assicura nel servizio pastorale e nella benevolenza fraterna che deve contraddistinguere un pastore nella guida della comunità. Lei, padre Gerry, c'è un'amicizia che dura da quando siete giovani, l'avete detto durante la predica e alla fine i ringraziamenti. Lei ha detto che le porte della sua comunità saranno sempre aperte, anzi saranno spalancate per un parrocchio che ha dato tanto a questa comunità e che non c'è gelosia e che non c'è gelosia e invidia fra di voi e questo fa bene a tutta la comunità e oltre la comunità di Sauca? Assolutissimamente sì perché sono sentimenti, quelli dell'affetto fraterno e della fraternità sacerdotale, che devono stringere in comunione di intenti il cammino dei fratelli sacerdoti che sono a servizio delle comunità e le comunità rimangono e un padre rimane padre ogni sempre, ogni giorno, sempre. Si possono allargare i confini del cuore unendo anche tante altre anime belle che il Signore ci affida. Così come quando nasce un nuovo figlio in una famiglia c'è sempre posto e spazio per tutti nel nostro cuore. Le scelte dell'amministratore apostolico Benigno Luigi Papa le riportano nella comunità ionica. Per lei c'è stato fino al 2011, è stato a Limina, è stata a Cifì, ha lasciato un buon ricordo. Adesso guidava Barcellona e rientra nel nostro comprensorio. Ci sono novità? Cosa è l'esempio di questa nuova avventura, diciamo che avventura comunque religiosa che andrà a guidare un greggio importante. Sì, ringrazio il Signore e anche l'amministratore apostolico per questa fiducia rinnovata che esprime ai suoi figli i sacerdoti, i sacerdoti di questa nostra chiesa, molto particolare, molto variegata e anche un territorio molto complesso ed esteso. Torno con grande gioia nel versante ionico dove ho anche la mia abitazione, quindi il mio cuore è sempre rimasto qui. Ogni giorno mi recavo con grande sacrificio nella comunità barcellonese a cui va il mio saluto, il mio ricordo, il mio grande affetto e rimangono immutati i sentimenti di amicizia e di stima e di fraterno legame nel Signore. Ecco, ritorno qui nella zona ionica, vorrei dire quasi riparto con quello stesso stile, quella stessa fraterna disponibilità che mi ha sempre contraddistinto rimanendo proprio a servizio del popolo santo di Dio, così come il Signore mi richiede attraverso l'amministratore apostolico che benignamente ringrazio. Invece Padre Geri, per la prima volta, come ha detto lei a fine messa, lascia un successore importante, un grande amico. Ma guarda, io ho sempre detto e ne sono convinto che la Chiesa non è nostra, ma la Chiesa è di Gesù Cristo. E Gesù Cristo chiama e manda testimoni nella sua Chiesa a lavorare per lui e a rendere servizio alla Chiesa. Perciò noi siamo di passaggio e dobbiamo nella successione testimoniare l'amore fraterno degli Apostoli, così come anche i Vescovi, anche i Sacerdoti si succedono in una Chiesa locale che può essere la parrocchia in maniera fraterna e dunque le gelosie e le antipatie o le invidie non fanno bene a nessuno, soprattutto alla comunità. Perciò io ringrazio il Signore che ha ispirato il nostro amministratore apostolico a fare delle scelte veramente sagge per una successione serena, tranquilla fra le comunità, in modo tale da non turbare i cuori, ma renderle più gioiosi perché la presenza dei sacerdoti che cambiano anche deve essere una gioia in una comunità. E fa bene a tutti e fa bene anche ai sacerdoti perché si vogliono bene di più. In bocca al lupo a entrambi per questo nuovo impegno religioso. Grazie. Grazie.